Piccola parentesi prima di cominciare questo video, ci tengo a sottolineare che ai fini dell'intrattenimento ho cercato di dare a questa notizia il tono più scherzoso e umoristico possibile. Ovviamente non voglio in alcun modo incitare nessuno a provare ad imitare questi gesti. Ingoiare una cosa del genere, un AirPod, può essere estremamente pericoloso e addirittura con ogni probabilità mortale per il nostro organismo. Quindi mi raccomando non fate follie. Questo video non sarebbe dovuto uscire, ma non è che non sarebbe dovuto uscire oggi, non sarebbe mai dovuto uscire nel mondo proprio. Però purtroppo io mi trovo costretto a dover dedicare questo video domenicale, voi lo sapete che da anni oramai la domenica sul mio canale vi porto video riguardanti le novità più interessanti, e sottolineerei molto questo interessanti riguardanti il mondo della tecnologia, abbiamo fatto dei bellissimi episodi, la serie totalizza sempre più di 100.000 visualizzazioni a video, contiamo milioni di visualizzazioni sull'intera playlist e insomma sono sempre riuscito nel corso degli anni a portarvi dei contenuti interessanti. Accidentalmente mi è capitato di leggere un articolo che a quanto pare è verificato, quindi non si tratta di una fake news, e io ragazzi non appena ho letto quell'articolo mi sono sentito male, ho detto ci devo per forza fare un video dedicato, devo dedicare un video domenicale a quello che è successo. Voi lo sapete che io sono sempre stato abbastanza bravo in inglese sia a leggerlo che a pronunciarlo, e quando mi è caduto l'occhio su questo articolo, man accidentally swallows an airpod and it still works after it passes through his system, mi sono detto calmi, cosa ho appena letto, avrò fatto un errore di traduzione per forza, però poi effettivamente significa un uomo, per sbaglio, ingoia una Apple AirPod e continua a funzionare dopo che è passata per il suo organismo. Tra l'altro io mi ricordo precisamente il giorno in cui imparai il significato di swallow perché l'avevo ascoltato in un testo di Eminem, ma fatta questa piccola parentesi, ripeto, questa notizia è certificata, ne hanno parlato siti come Daily Mail, E quindi io mi sono detto ok, questa domenica devo per forza portare questa notizia sul canale, la devo commentare con i miei iscritti, mi sono letto questa storia il meno possibile, quindi io non so ancora come sia andata esattamente la vicenda, perché voglio portarvi una sorta di live commentary, di reaction, perché penso che queste cose succedono una volta ogni mille anni. Un ragazzo taiwanese è stato meravigliato nello scoprire che la sua Apple AirPod continuava a funzionare dopo che lui l'ha ingoiata e poi l'ha espulsa in una toilette pubblica. Quindi abbiamo tutti capito come alla fine questo ragazzo si è liberato dell'AirPod che si era inghiottito, se non l'avete capito questa foto ci spoilerà un po' il finale insomma. Ben Su, veramente non è una mancanza di rispetto ma non so come pronunciare questo cognome, lo chiameremo Ben, si è addormentato con le sue AirPod ancora inserite nelle sue orecchie, ma quando si è svegliato non è più riuscito a trovarne una. Siete familiari con questa situazione, a me capita molto spesso, non di inghiottirmi un AirPod, di svegliarmi nel letto, magari ricordarmi che mi ero addormentato con le cuffie e con il cellulare in mano e poi trovi magari il cellulare per terra, le cuffie che non si trovano più, perché ti sei mosso durante la notte e hai distrutto tutto quello che c'era intorno a te. Ecco, lui non trovava più una delle due AirPod. Usando l'iPhone, quindi la funzione trova le mie AirPod che praticamente ti permette di farle suonare qualora tu non le trovassi più, ha scoperto che il dispositivo era ancora nella stanza e che il suono che emettono per trovarle, quindi quel suono tipo radar, non so se ce l'avete presente, lo seguiva. Quindi lui cambiava stanza e continuava a sentire il suono vicino a lui, diciamo dentro di lui. No ma raga, proviamo tutti un attimo a immaginarci la scena. Cioè lui che si è appena svegliato, non trovo più l'AirPod, facciamola suonare. Lui ha dichiarato, ho controllato sotto le coperte, ho cercato dappertutto ma non sono riuscito a trovarlo. Dopodiché ho capito che il suono proveniva dal mio stomaco e io mi immagino la sensazione cosa hai provato quando hai capito di esserti mangiato un AirPod. Penso che nessuno possa descrivere un'emozione tale senza averla provata. Giustamente, aggiungerei io, è andato all'ospedale, in questo ospedale che non vi pronuncerò, dove i medici hanno confermato che si era mangiato un AirPod. Hanno detto che mentre lui era all'ospedale stava passando dal suo sistema digestivo, aggiungendo anche che sarebbe stato necessario un intervento chirurgico per rimuoverla nel caso il corpo non l'avesse espulsa in modo naturale, cosa che poi per fortuna è successa. I dottori... I dottori gli hanno dato un lassativo e gli hanno detto di ispezionare gli escrementi alla ricerca di qualche segno del dispositivo. In realtà è vero, cioè funziona così, se tu mangi un qualcosa di tossico che comunque devi espellere purtroppo ti tocca controllare ogni volta che vai in bagno perché se non è fuori è ancora dentro. Però a me tutto questo ricorda molto la scena di Jurassic Park, quando il tirannosauro si mangia il telefonino. Fortunatamente per Ben, l'AirPod è... mi piace che hanno usato il termine resurfaced, è riemersa quando lui è andato a una toilette pubblica in una stazione di servizio il giorno dopo. Quindi nemmeno nel cesso di casa sua ha dovuto recuperarla in un bagno pubblico. E qui addirittura abbiamo un'immagine ai raggi X che mostra chiaramente l'AirPod, il corpo estraneo all'interno del suo corpo. Quest'immagine dovrebbe essere esposta tipo quadro a casa sua in modo tale che lui possa raccontare ai suoi nipoti cosa gli era capitato da piccolo. È stato costretto a una ricerca molto puzzolente ma alla fine è riuscito a recuperare il dispositivo da 65 sterline e ha scoperto che era ancora intatto, che era ancora funzionante. Quindi abbiamo capito che non solo le AirPod dovrebbero essere waterproof, no in realtà non lo sono, però abbiamo anche capito che sono shitproof praticamente. Dopo aver lavato l'AirPod e lasciato l'asciugare, Mr. Sue, ah scusate Ben, è stato molto sorpreso dallo scoprire che continuava a funzionare. Io forse sono esagerato, nel senso che mi schifo addirittura ad utilizzare un paio di cuffie che non sono mie, che sono state nelle orecchie di qualcun altro. Ma tu veramente vuoi riutilizzare nel quotidiano un AirPod che è passata per il tuo corpo dall'inizio alla fine? L'unica spiegazione è che tu la voglia regalare a qualcuno che ti sta sulle balle, tipo Ehi tieni, a me non servono più, prendile e fanne buon uso. La batteria era ancora al 41%, è stato incredibile, ha dichiarato. Tanto non ci hai detto da che percentuale era partita. Poi a me verrebbero in mente molti aggettivi per descrivere questa storia, incredibile, è proprio in fondo alla lista. Il dottor Chen Chen Fan, circa, che lavora nella sala emergenze, ha spiegato Grazie al rivestimento in plastica attorno all'AirPod, il rischio di causare un malore analogo a quando si ingoia una batteria a ioni di litio, perché tutti conoscono la sensazione di quando ci si ingoia una batteria a ioni di litio, era molto più basso. L'esposizione diretta a una batteria potrebbe aver causato serie ripercussioni nel suo intestino, così hanno riferito. Praticamente lui cosa ci dice? Ci dice, ovviamente se ingoiate una batteria è un problema, perché le batterie a ioni di litio sono piene di prodotti chimici altamente dannosi e mortali per l'uomo. Però con il fatto che la batteria era ricoperta da uno scudo di plastica, che alla fine è l'AirPod, allora tutto a posto, mangiamoci i dispositivi come se fossero burro. E questa è la nostra storia, alla fine possiamo deliziarci con un selfie del nostro Ben, con l'AirPod recuperato ancora umido, chiamiamolo così. Raga, io vi dico la verità, all'inizio non ho pensato a fare questo video, perché se una cosa del genere fosse capitata a me, io avrei cercato di nasconderla il più possibile, non di farla diventare virale. Ma nel momento in cui tu ti fai un selfie col corpo estraneo in mano, nemmeno lavato, sorridendo, allora ti meriti tutto ciò. Ma io ragazzi, prima di salutarvi, voglio leggere i commenti di questa vicenda, perché secondo me troveremo una miniera d'oro. Magari potrà continuare a funzionare, ma scommetto che suonerà di me. Avete capito il gioco di parole? Ve lo devo spiegare. Ehi, adesso le sta vendendo qualcuno che le vuole comprare? Io ho ingoiato un'unghia quando ero piccolo e ho dovuto trovarla allo stesso modo, quindi ravanando nella tua me. È in questo modo che tu puoi scoprire se è ancora nel tuo organismo e che quindi sta bloccando il tuo intestino. Comunque anche l'unghia ha continuato a funzionare. Anche il penny che ho ingoiato continuava a funzionare. E lui ne va fiero di tutto ciò? Dovrebbe esserne imbarazzato e non cercarsi quei 15 minuti di fama. Finalmente uno col cervello. Quell'airpod dovrebbe essere sotto vetro nell'Apple Museum. Sono d'accordo con te, però poi la didascalia cosa ci scrivi? Ingoia per sbaglio? In che senso? Esatto, in che senso? Come fai tu per sbaglio a ingoiare un'airpod? È più grande di una pasticca. Cioè io se mi va in bocca un moscerino inizio a tossire come un dannato e tu durante il sonno ti ingoiare un'airpod e non ti svegli nemmeno. Ma prima di chiudere questo video, molti penseranno che io sia stato un idiota a inizio video a dire quel disclaimer incitando a non emulare questo ragazzo. Perché mi direte, ma veramente ci sarà gente secondo te che proverà a rifare lo stesso gesto? Un ragazzo ingoiare un'airpod. Direttamente da Snapchat. Guarda, guarda, con l'acqua. Veramente come se fosse una pasticca, un'aspirina. Così. Lui è tranquillo. Io non so se questo video sia vero o falso, perché effettivamente non si vede che si è buttato giù un'airpod, poteva essere qualsiasi cosa. Ma se tu l'hai fatto per davvero, ragazzo mio, e l'hai ricondiviso, tu non sei una persona normale. Detto questo ragazzi, io ho sempre meno fiducia in quello che succede nel mondo. Sono sempre più incredulo alla lettura di fatti del genere, ma una notizia così non potevo esimermi dal non trattarla. Detto questo ragazzi, io spero che questo video vi sia... piaciuto. Se è così, fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui e là ti potete raggiungere altri miei due video, invece cliccando quel centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.